cari fratelli e sorelle buongiorno non sappiamo che cosa ci riserverà il 2021 ma ciò che ognuno di noi e tutti insieme possiamo fare è di impegnarci un po di più a prenderci cura gli uni degli altri del creato nostra cassa comune ho letto sui giornali qualcosa che mi ha rattristato abbastanza in un paese non ricordo quale per fuggire del lockdown e fare le vacanze bene sono usciti quel pomeriggio più di 40 aerei ma quella gente che è gente buona ma non ha pensato a coloro che rimanevano a casa ai problemi economici di tanta gente che il lockdown ha buttato a terra negli ammalati soltanto fare le vacanze fare il proprio parcerio questo mi ha dolorato tanto è è è è è Grazie a tutti.